Saranno segnati a Dacia Maraini, Carlotta Vagnoli, Lorenzo Cremonese e Francesco Guccini, premi della decima edizione di Passaggi Festival della Saggistica, ideato e diretto da Giovanni Belfiori. L'evento, in programma a Fano dal 20 al 26 giugno, prenderà il via con un'anteprima dedicata alla narrativa italiana a San Costanzo, sabato 18 e domenica 19. L'ingresso sarà gratuito. Il primo appuntamento è martedì 21 giugno alle ore 22 con il premio giornalistico Andrea Barbato. Sarà premiato l'inviato di guerra, Lorenzo Cremonesi, ha scritto un libro molto intenso, un libro tra l'altro non soltanto sulla guerra in Ucraina, un libro su cui stavo lavorando da alcuni anni, perché lui si è fatto veramente 40 anni di guerra nel mondo e si intitola, non a caso, purtroppo, Guerra Infinita. Lorenzo Cremonesi sarà intervistato da Simonetta Fiori, giornalista di Repubblica e poi sarà premiato al termine della presentazione. Il secondo premio che daremo è il premio Passaggi, premio del Festival. Il premio del Festival è in programma venerdì 24 giugno alle ore 21 e quest'anno abbiamo deciso di premiare Dacia Maraini. La scrittrice, poetese e saggista, già vincitrice del premio Streghe e del premio Campiello, sarà intervistata dalla direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Invece, per i lettori appassionati di musica e social, l'appuntamento è al Pincio di Fano, dove alla scrittrice Carlotta Vagnoli sarà segnato il premio Fuori Passaggi quest'anno alla seconda edizione. L'appuntamento è, come dicevo, sabato 25 giugno alle ore 21 e a intervistare Carlotta Vagnoli sarà Lorenzo Pavolini. Ultimo premio, è un premio speciale perché siamo alla decima edizione e ci sembrava giusto dare un premio speciale per la decima edizione. Lo diamo a un grande nome della canzone, un grande nome del cantautorato, un grande nome anche della scrittura, perché ha scritto tanti libri ed è Francesco Guccini. Francesco Guccini sarà a Fano, in piazza 20 settembre naturalmente, domenica 26 giugno alle ore 21 e sarà intervistato da Marino Sinibaldi. A seguire, l'appuntamento che chiuderà la manifestazione, il discorso notturno di Vanno Dionigi sul tema del festival, che quest'anno è con dubbia ragione. Vanno Dionigi è uno dei più grandi studiosi di lettere classiche, è stato rettore dell'Università di Bologna e nell'occasione presenterà il suo libro Benedetta Parola, edito dal Mulino, e appunto terrà la lezione finale, il discorso notturno finale. Tra l'altro, speriamo di poter andare avanti se i fondi ce lo permettono, abbiamo stampato con la casa editrice Affinità Elettive, abbiamo stampato la lezione, il discorso notturno dell'anno scorso, di Nando dalla Chiesa. E quindi quest'anno lo metteremo in vendita nella libreria del festival e sarà un modo per contribuire alle spese del festival.